ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base agli integratori date assunti grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare betola pubescenze a cosa serve betola pubescenze ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la depurazione è commercializzato in italia dall'azienda natursi mul di dossier riccardo e compagni snc informazioni commerciali titolare natursi mul di dossier riccardo e compagni snc concessionario natursi mul di dossier riccardo e compagni snc categoria di appartenenza integratori per la depurazione forma farmaceutica gocce confezioni betola pubescenze macerato glicerico betola pubescenze gemme 1 di h gocce 50 ml modalità ad uso 50 gocce diluite in acqua 2 3 volte al giorno descrizione e caratteristiche la betola pubescenze appartiene al genere betola che comprende circa una quarantina di alberi molto simili il nome pubescenze le deriva dal fatto che i suoi rami sono ricoperti da una fitta pelluria la betola pubescenze a un albero caducifoglio che può superare anche i 20 metri di altezza le gemme sono accuminate lunghe circa 1 centimetro lucide e vischiose necessita di un clima temperato predilige terreni poveri con umidità a risorgiva e sopporta bene i terreni paludosi nell'europa centrale cresce dalle pianure fino al la regione alpina dove la si può trovare fino oltre i 2000 metri di altitudine alc 30 per cento all idrato 50 ml anidro 15 ml avvertenze non superare la dose massima giornaliera consigliata gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata di un sano stile di vita tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dalla luce la data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra ingredienti acqua alcol etilico stabilizzante glicerina vegetale betola pubescenze betola pelosa gemme 2 per cento grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato